Quella che sembrava essere solo una formalità invece si è protratta nel tempo, doveva essere una formalità, il rinnovo di Paolo Maldini, il rinnovo di Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan. Sembrava essere solo una formalità invece si è protratta nel tempo, lo sappiamo Paolo Maldini e Ricky Massara ancora non hanno rinnovato col Milan, il loro contratto di schadenza dal 30 giugno 2022 quindi manca sempre meno, ma la settimana che inizierà da domani sembra essere la settimana chiave, la settimana decisiva per i rinnovi di due dirigenti e per sbloccare definitivamente il campionato. Sembrava essere una formalità, poi c'è stata la dichiarazione di Paolo Maldini alla Gazzetta dello Sport nell'intervista del 27 maggio, c'è stato il passaggio di consegne dal fondo Iliot al fondo Redbird e queste due situazioni hanno rallentato in maniera importante i rinnovi, la formalità, i rinnovi di Paolo Maldini e di Frederic Massara. Lo sappiamo, i due dirigenti hanno lavorato con grande professionalità anche in questo periodo, hanno imbastito le trattative ma serviva proprio la loro conferma, serve la loro conferma ufficiale per rendere ufficiali le trattative. Divo Corrigi, Renato Sanchez su cui è piombato in maniera pesante, in maniera importantissima il Paris Saint Germain e quindi Paolo Maldini e Ricky Massara che proprio questa settimana che inizierà andranno a rinnovare. C'è un detto, chi dorme non piglia pesci e sembra essere un po' il motto del Milan di questa fase, non bisogna essere allarmati perché il mercato ufficialmente non è ancora partito, c'è tutto il tempo di costruire, di migliorare la rosa, di puntellare la rosa. Però questo detto sembra essere vero perché chi dorme non piglia pesci, perché Renato Sanchez che il Milan ha già trattato, ha già definito con il Lille. Sembrerebbe che qualora arrivasse l'offerta e fosse confermata questa super offerta di 30 milioni di euro al Lille e questa offertona a livello di ingaggio al giocatore, ovviamente la trattativa possa prendere una piega totalmente differente. Vedere il giocatore portoghese abbandonare l'idea a Milan, abbandonare l'idea di giocare con i suoi amici Mike Magnin e Rafael Leao per sposare, tra virgolette, un progetto più ricco come quello del Paris Saint Germain. Non sarebbe una scelta probabilmente tecnica per il giocatore perché al Milan avrebbe maggior spazio, una considerazione differente, un ruolo da protagonista differente. Il Paris Saint Germain sarebbe uno dei tanti. Staremo a vedere, i rinnovi sono sicuramente decisivi, i rinnovi di Paolo Madini e Ricky Massara, Paolo Madini che vuole essere questo rappresentante del milanismo, questo rappresentante di un grande progetto rossonero. Quindi mi immagino che ci sono stati tanti confronti con la nuova proprietà, con Gerry Cardinale in particolare. Gerry Cardinale mi dicono che vede di buon occhio una figura come Paolo Madini all'interno della società e che vuole valorizzarla. Ecco, questa parola di valorizzazione di Paolo Madini. Sembrerebbe che alla base di questo, non dico tentennamento, ma questo rallentamento nel rinnovo si è dato da due fattori. Il primo voleva conoscere bene quelle che erano le intenzioni, il piano strategico, il piano operativo di Redbird Capital Partner. Dall'altro lato, aver sempre più ruoli decisionali all'interno del Milan, di avere maggior, possiamo dire, margine di manovra nel mercato, senza dover passare ogni volta da questo eater, un po' che si era costruito ad hoc tramite il fondo EUT con Ivan Gazzidis e altre figure dirigenziali. Vuole avere più peso, vuole conoscere il budget e all'interno dello stesso avere la possibilità di spenderli in maniera autonoma. Invece sembra che il fondo EUT lo guidasse un pochino attraverso una scelta di profili che magari, come dire, più giovani, magari con costi di ingaggio differenti. Paolo Madini vuole maggiore autonomia. Questo non vuol dire di andare a prendere giocatori di maggiore esperienza, ma vuol dire non dover dar conto a nessuno sulla scelta tecnica del giocatore. Vuole fare un lavoro di squadra con Massara, con cui lavora bene, con cui si trova molto bene. E quindi questi due punti chiariti, perché sono stati chiariti all'interno del gruppo dirigenziale rossonero, all'interno della dirigenza rossonera, sbloccheranno definitivamente la questione dei rinnovi. Sperando che possa essere ancora in tempo il Milan a prendere con l'asse Lille due giocatori importanti come Sven Botman e Renato Sanchez. Il primo che continua a rifiutare il Newcastle e il secondo che è un po' distratto dalle voci sul Paris Saint Germain, ma un ritorno, un rinnovo veloce di Paolo Maldini potrebbe fargli cambiare idea. Una chiacchierata con Paolo Maldini potrebbe in qualche modo renderlo ancora più convinto il Milan e al centro del progetto rossonero. Fatemi sapere, amici, di Rubrica Rosso Nera cosa ne pensate. Dico come sempre se vi è piaciuto questo video quindi devi mettere mi piace, di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.